Ma sappiamo anche che non sarebbe stato possibile tutto ciò senza l'impegno e il sacrificio dell'esercito americano di giovani ragazzi che neanche conoscevano l'Italia ma che sono andati per il mio nonno, per il mio padre, per la mia famiglia, per i miei figli. Per questo in questi giorni di celebrazione in Italia vi recherò anche per i 70 anni della liberazione in un luogo che mi è particolarmente caro il cimitero americano di San Casciano per portare il tributo a tutto il popolo americano che vorrei distendere a te caro Presidente ringraziandoti a nome di tutti gli italiani. Abbiamo discusso molto, abbiamo discusso di tante questioni molto importanti, sono ansioso di discutere con il Presidente Obama delle questioni legate all'economia. Se voi guardate questi ultimi sette anni, 2008-2015, l'economia americana ha visto ridurre il numero di disoccupati ed è cresciuto il GDP. L'economia europea ha visto aumentare il numero dei disoccupati ed ha diminuito il GDP. Qualcosa non ha funzionato a casa nostra. Per questo motivo intendo che l'esperienza del governo degli Stati Uniti sia un modello per l'economia europea e che dobbiamo stare molto attenti al budget, ai limiti, agli impegni che ci siamo presi, ma corre anche una nuova stagione di crescita e di investimenti. Nel 2014 andiamo...